ciao raga allora penso che voi avete visto che hanno messo un nuovo pacchetto questo io me lo sono già sciopato guardate che bella si chiama diva diamante diamantina io ho già fatto quasi un set devo farci una partita allora non so se si miro qui perciò se si miro qui perciò se si miro qui perciò ok 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 andiamo all'ago comunque raga se state sentendo brutti rumori è che io sto mangiando oggi pomeriggio io farò un video dove farò vedere tutte le posizioni dei cosi forse se avrò voglia non 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 comunque c'è un bosco non 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 un pacchetto che da 600 VBAC, un piccone, una schiena, cioè che ne vuole le mette, mettete gli altri, insomma li compro tutti tanto di questi tipi, perché uno sono un botto convenienti e due costano pochissimo, anche quando non c'erano le ferze di forza, 5, 6 e 5, 5 euro e 99 costava, ah no 4 euro e 99, scusate, ma ne conveniva lo stesso, non lo so, no non metto quello con l'altro, perché l'altro dopo ci mette 3 anni a ricaricare, era, ah, il sondaggio di oggi, scrivetemi nei commenti qual è il vostro top preferito della stagione 5, a me il tattico finora, il tattico blu per precisione, perché quello viola, non so perché, ma non mi trovo bene, anche se è della realtà uguale, ma è dello che si senti io, non lo so, attraenta, arre Troppo veicina per me vuosti. Troppo veicina per me vuosti, Raga. Raga, due di vita, Raga. Raga, due di vita. Me la sono giocata malissimo qui. Raga, me la sono giocata malissimo qua. Avevo due di vita, Raga. Ora me lo dico pure io, questo era forte. E io me la sono giocata malissimo. Madonna, Raga. Raga, se prendo anche un solo danno di caduta sono morto. Ok. Uff. Fortuna, Raga, perfettura. Me ne vado a camperare. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Ok. Tanto mangio un altro cioccolatino. Ok, Raga. Poi questa è la mia partita del giorno. No. A ver se ha ido... Non parlo. non ci credo easy ho 5 kg raga quanto cacchio devo con tutto cieco la ninja avversari mi prendo questa perché è più preciso non so molto davvero è che è un po' più preciso anzi no voglio l'assalto lo spammo di più però lo sto usando meglio mangio i peperoncini e andiamo finora è stato tutto bene cioè più o meno dopo quel fight che sono rimasto senza la costola se non succedeva quel fight era molto meglio perché mi ha rubato la costola a me potenza madonna raga ma ancora prendo sempre gli infarti per questi che campano dietro le rocce dai mi ha bloccato pure mi ha rubato la costola a me non so non so non so ok stavolta ho usato soltanto le lanciarasi stavo rischiendo di morirci però io mi sono sempre spravi su un giorno chi vuole potrebbe insegnarmi tipo a fare rete perché non sono ancora così tanto forte chi vuole giocare con me poi scrivo descrizione così giochiamo insieme a 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 rip questa si che era forte raga aveva un bellissimo comunque dai raga ho fatto 6 kg è buono ora io ora vado precisamente creativo tanto guardate il mio nome aspettate se non ci fossero se mi scordai si nella descrizione guardatelo qua si vede vero tanto che forse faccio vedere si vede meglio non lo so se si vede ok ora oggi pomeriggio fare un altro video dove gioco con il mio amico e ciao raga